Ehi ragazzi, come va? Io sono Feri Niki E io sono Steph E questo oggi giocheremo a Kingdoms E andiamo subito a salutare i nostri sei eroi del giorno Che per oggi sono Alberto, Daniel, Francesco, Tommaso, Andrea e Sofia Ciao ragazzi Grazie mille per la condivisione Vi ricordiamo che anche nell'altro saranno salutati altri sei eroi Pieghiamo velocemente in cosa consiste Kingdoms Ok È un'app per cellulare che ci è stata consigliata un po' di tempo fa dal consolino Slenderale Infatti noi ci abbiamo giocato tantissimo Sì Abbiamo fatto sfide improponibili In cui l'obiettivo sarà quello di sfidare altri player in dei quiz su tantissimi argomenti Esatto, ci sono tanti temi da scegliere Si può fare quiz praticamente su tutto Noi su che cosa lo facciamo oggi? Che dici? Di che cose vogliano? Decidiamo Hanno messo un sacco di cose nuove perché era da un po' che non c'entravamo Ok Ci sono tantissimi Perché i quiz, ci tengo a precisare, sono fatti dagli utenti Quindi c'è di tutto e di più Esattamente Si può scegliere tra qualunque caso è serie A Vuoi fare un po' di calcio? Ti piace? No grazie, sono davvero scarsa nel calcio Per quella, almeno vinco Io ti direi Pokémon GO Proprio in tema Pokémon Sì Dai, sì, sì Visto che ci siamo Questo non l'abbiamo ancora provato Esatto Non ho idea di che domande ci saranno L'hanno aggiunto da poco Tocca subito a me Allora, spieghiamo come funziona Vedete, abbiamo nove bauli Che sono tutti nascosti Praticamente dentro uno di questi bauli possiamo trovare il re Quando troviamo il re Ci farà una domanda Che se riusciamo ad indovinare ci dà una corona Chi arriva a cinque corone vince Sì, guarda, tanto è più semplice a vedersi che a spiegarlo Il sistema particolare però è carino perché poi in mezzo a queste scatole si possono trovare cose comode Cose che invece tipo ti fa cinque domande di fila Insomma, c'è un sacco di roba Sì, anche gli altri personaggi oltre al re ti danno diciamo un sacco di difficoltà Comunque si inizia Allora, secondo me il re qui No Hai già sbagliato Allora, vediamo la prima domanda Di che nazionalità è il primo ad aver completato il Pokédex? Ah, l'ho letto da poco questa notizia Non me lo ricordo però, l'ho letto da poco Allora Dimmi le opzioni Russo, americano, giapponese e inglese Secondo me è americano perché il gioco l'hanno messo prima lì Yes Lo sapevo Però in effetti non ti devo dire le risposte perché siamo rivali Esatto, allora vediamo se riesco Sto zitta e al massimo cerco di farvi sbagliare Vediamo se trovo il tre questa volta No Due domande devo riuscire a rispondere Poi come vedete ogni domanda fatta giusta Quindi risposta correttamente Si può continuare E aprire un'altra scatola Allora, di questi quattro qual è il Pokémon base? Eevee, Flareon, Jolteon e Vaporeon Eevee Ok, facile, facile Questa, dai Guarda, per ora sono semplici Per ora sono semplici Infatti sono tranquillo anche io Ma tanto so che ci sarà roba difficile Per ottenere un Vaporeon Come bisogna rinominare il proprio Eevee? Non mi ricordo Ah, aspetta, devi mettere i nomi degli allenatori del cartone originale Sparky Era Rainer Ok, quindi tocca a te, vai È il tuo turno Sbaglia subito, per favore Adesso ti capita la domanda più difficile di sempre Non ci provare Allora, vediamo il Re Dimmi tutto, fammi sapere se trovi il Re No, non l'ho trovato Ok, meno male Non l'ho trovato Sarà una sfida davvero lunga Come si ottengono le Pokémonette? Facendo schiudere uova Facendo evolvere Pokémon Visitando Pokémon Mettendo Pokémon nelle palestre Che fortuna Questa la so E dai, ho giocato tantissima Pokémon Sì, ma che domanda facile che ti è capitata Le devo indominare tutte Aia Niente Re ancora A cosa serve la polvere di stelle? È per potenziare i Pokémon Quindi potenziare Anche per evolvere Non mi ricordo Bobo, chissà Ma ne ho mai evoluti i Pokémon? Oh mio Dio Allora, le caramelle sono per evolvere Sì E la polvere per potenziare Ho indovinato Per potenziare servono anche le caramelle comunque Cavolo Niente Niente Ho trovato il pirata Il pirata In quale uovo si può trovare Tauros? Quello da 10 Se non ricordo male Quello da 10 Ok Guarda che le opzioni Scusami Tauros è un mammifero Non fa le uova No E quello da 5 Scusa Tu l'altro giorno mi hai detto Che Tauros si può trovare nell'uovo da 10 No, no Assolutamente no No, me l'hai detto tu No, no Allora Adesso punterò a farti sbagliare il più possibile Vai Sì, ma tanto non ci riesci Guarda, mi ha liberato un sacco di spazi Allora, 1 su 3 è il re A sto punto in quello centrale Eccolo Non ci credo Dai ragazzi Non ci credo Dai ragazzi Allora Quanta polvere di stella da un Pokémon Già catturato in precedenza? 100 Sono praticamente sicuro Sì Prima corona A quale cartone animato è ispirato? I Simpsons, la sirenetta, Dragon Ball e Pokémon Ispirato Ispirato? Non respiri Vabbè, Pokémon Ok, grazie Ispirato Grazie Poi Oh no Ma non è giusto Mi è capitato lui Questo è difficile Vedi Ti fa capitare una domanda più difficile? Che succede? Se ottengo il mega rivitalizzante È il revitalizzante ma vabbè Che livello sono? Non lo so, io non ce l'ho quindi Un livello alto per forza 30, 10, 20, 25 Io al 20 non ce l'ho Quindi secondo me è al 30 È al 30? Sì Eh vabbè, non ci siamo arrivati Non lo sapevo io Non lo sapevo Se metti un Pokémon in una palestra Puoi usarlo per attaccarne un'altra? No Quando ne sbagli una? Tra poco cara Ok, grazie Ci sono solo altri 5 Quindi se sbaglio potresti trovare facilmente un re Ma secondo me qui l'ho trovato davvero Potrebbe diventare 2 a 0 È bello che quando ci sfidiamo Hai sempre sfortuna e non lo trovi mai il re Adesso lo trovi sempre Cioè non è possibile Perché devo vincere la sfida Qual è l'evoluzione di Bulbasaur? Allora, stiamo calmi Perché a me vengono dubbi Tra Ivysaur e Venosaur Ivysaur Ok Io lo sapevo Guarda, non avevo dubbi Neanche per un secondo Non so perché ogni tanto mi vengono anche questi dubbi Allora, 2 a 0 Attenzione, potrei riuscire a vincere senza farti più giocare Tutto di fila, fortissimo Perché non trovo il re? Non è giusto No, ci manca solo che ho trovato subito Come si chiamano i leader dei tre team di Pokémon GO? Allora, si chiamano Candela, Blanche e Spark Questa l'hanno annunciata poco fa Tipo due giorni fa Quindi non la sapevi? No Ma se ti ho fatto anche vedere la notizia La so, ma io non ti ascolto Eh, ho notato Però vedi, è stato utile Tanto te li dimenticherai se ti ricapita Ok Mi è capitata una pozione La guida Rispondi correttamente alle domande Albert ti indicherà due scatole In una delle quali si nasconde il re Quindi mi sta facilitando la strada verso il re Vediamo cosa c'è Blastoise di che tipo è? Acqua, giusto? Più facile, no? Ovviamente Ovviamente Sì Quindi il re è o qua o qua? Hai pure sbagliato così? Accidenti Mi sa che oggi non sei in forma Si possono trovare gli starter selvatici? Sì Sì Si possono trovare tranquillamente Quindi adesso Il re è per forza qui Esatto È per forza qui Adesso sbagliare la domanda No, allora È possibile personalizzare il giocatore nel gioco? Sì Ovviamente Sono abbastanza semplici Queste di Pokémon GO Devo essere sincera Sono abbastanza semplici L'importante è vincere Non importa come L'importante è ottenere la gloria Che poi voglio precisare Che tra le scatole Si può trovare pure un vampiro Che se riesci a rispondere alle domande Ruba una corona dell'avversario Quindi diciamo Come si chiama l'evoluzione di Zubat? L'ho risposto prima in silenzio senza dirtelo Eh la sto anch'io Infatti sto evitando di dirti le risposte Golbat? Golbettino? Così Così non mi copri più Ovviamente Ovviamente Allora Allora A quale carte animato È ispirato Non ispirato Cioè Non ci credo Di nuovo Sta imbrogliando Evidentemente È un argomento nuovo No ci sono 300 domande Non sono poche Io non ho capito Perché anche quando sono 300 Non lo so Vorrei capirlo Però magicamente capitano Quando tu e tre Cioè subito Non ci credo Uno dopo l'altro Di quale generazione Oddio aspetta Di quale generazione Sono i Pokémon Articuno Zapdos e Moltres Ah Io non me ne ricordo Cioè prima che non è Seconda Terza E sesta Ah Questo è difficile Allora seconda Secondo me neanche Sesta Prima no? La risapevo Dimmi da vedere Scusa Sai cosa ho sbagliato Sì Mi sono confusa Pensavo fossero Star Vabbè Lasciamo perdere Mi sono confusa Poverina Non te lo dirò mai Dove errei Dai dimmelo No È per caso qui? Sì Qui? Sì Allora è qui No Uffa Però ho trovato Tina Ti indicherà due scatele In una delle quali si nasconde Di quale generazione di Pokémon sono Articuno, Zapdos e Moltres Ha preso in giro ragazzi Davvero non ha preso in giro Non saprei Forse è la prima Ok Quindi adesso me ne indica due Allora è qua Eh sì Ai 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 Allora vediamo un attimino Quale Pokémon rappresenta una squadra? Zubat Zig Zagun Che è di un'altra generazione Zapdos Zoro Zoroark Che è di un'altra generazione Dovrebbe essere Zapdos Ok Mi ha fatto un po' paura questa domanda Era strana Era un po' strana Intende delle tre squadre Blu, giallo e rosso Capito? Ok 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 Allora quindi 3 a 2 Ho avuto paura che stessi per perdere Invece eccomi qua che recupero signori Allora di nuovo Tito Rispondi correttamente a domande Tito ti indicherà due scatole In una delle quali si trova Di nuovo? Sì Mi sta andando molto bene Allora Qual è l'evoluzione di Eevee? Tutte le precedenti È capitata anche a me prima Ok è stata un po' strana Ok non l'ho trovato Però almeno so dov'è Allora Quante caramelle costa la seconda evoluzione Dei tre starter? La seconda evoluzione 100 Mi stava per confondere Perché venirei a pensare Che sia È un po' trabocchetto Allora Attenzione Quindi di nuovo il re Per andare 4 a 2 Allora A cosa serve la baccalampon? Che serve la bacca? Per aiutare la cattura del pokemon Nessuna delle precedenti Per dar da mangiare i pokemon Per curare i pokemon È ovvio questa È ovvio Allora Con quale seconda mossa Eevee ha alte probabilità Di evolversi in Jolteon? Non lo so Non è neanche vera questa cosa Infatti non è neanche vera L'hanno smentita come cosa E io me la trovo come domanda Com'è te? Non ti dirò la risposta Però Ok Ho anche insultato La risposta Sì tocca di nuovo a te Purtroppo Perché quando non le stai insulti Non si Perché non è neanche giusta Cioè ti rendi conto Che è una cosa che è stata smentita Boh Ma anche quella del nome degli allenatori Non è tanto giusta Perché non è proprio stata Spermata Cioè alcuni dicono Dettagli C'è subito Vediamo sì Sì Ok Di che nazionalità è il primo Ad aver completato il Pokédex Non so chi abbia risposto A questa domanda Allora Non fare la simpaticona Non lo so Chi me l'ha detta prima Giro qualcosa in faccia 3 a 4 3 a 4 Ok Vuole recuperarmi la maledetta Vuole recuperarmi Ho trovato la regina Oh mio dio Rispondi correttamente A 5 domande in 30 secondi Non ce la farò mai Vai 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 Pokémon GO è uscito in Italia Il 15 luglio Ho sbagliato Era il 12 no? Era il 12? No non hai capito cosa è successo È ancora peggio C'era scritto 15 luglio 2015 15 luglio 2016 Siccome sapevo di dover rispondere A 5 domande in 30 secondi Il mio cervello appena ha visto 15 luglio Ha risposto senza neanche leggere le altre E ho cliccato Si è stata fregata l'altro bocchetto Più vecchio di sempre Ma perché mi è venuta a fretta Cioè 5 domande in 30 secondi Le devi pure leggere È difficilissimo Quindi il mio cervello ha visto 15 luglio Il tuo cervello non c'era È diverso Adesso spacco il telefono in terra Lo rompo Mi sa che con questa cosa La sfida te la sei giocata Secondo me Sei dove te? No Dai no è impossibile No no non lo so Non lo so Ah la regina però l'ha bruciata Speravo di poter riprendere la tua regina No 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 La regina si brucia certo Allora devo uscire a rispondere A sacco di volte di fila giusto È possibile personalizzare i giocatori nel gioco? Sì Pokémon GO è uscito in Italia Il Grazie Hai buttato l'acqua per te Esatto Perché sono arrabbiata Ah Ai 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 Ma non è giusto Vediamo un po' Come si chiamano i leader dei tre team? Io non me li ricordo più Ascolta io il cartone lo guardavo quando ero piccolissima Cioè come pretendi Perché sono del cartone? Cosa? No non è capito Sono quelli dei tre team Quelli che metto prima Ah quella di prima Te li ho anche detti Ma pensavo stessi parlando di altro Te li ho detti due secondi fa Dai Allora Secondo me Stellina fiammette blu No Ma sei seria? Cioè stai trollando e risposta seriamente? Perché davvero Cioè te li ho detti due secondi fa Ascolta erano più bellini come nomi Ma ti ho fatto vedere lì Ma sembrano tre nomi da cane Non sembrano d'allenatori Due minuti fa Ne sono due Dimmi dove è il re Il re è su Indecisa No Era su Vedete? Io ho provato ad aiutarla Per andare su 4 a 4 Se ottengo il mega rivitalizzante Che livello sono? 25 avevamo detto 25 30 Non me la ricordo più E mi hai fatto pure vedere dove è il re Ma era l'unica che mancava Ma non è che c'era molta scelta Cioè rimane una scatola L'avresti indovinata comunque Mi fa quasi pena vincere così però Dai ma come ti ho detto 30 Voce alta prima Vediamo dai Magari me la fa difficile Adesso butto in terra un'altra cosa Ascolta mi stai calma Magari me la fa difficile Non la indovino Poverina Ce mi basta malissimo Allora 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 Adesso piango Dai Questa sinceramente io non saprei come rispondere Quante squadre ci sono in Pokemon Go? 15 Forse sono 5 Forse sono 2 28 Potrebbe essere E mi dispiace Ma ho vinto Io vorrei dire che il quiz era taroccato da te per farti vincere Vorrei Dire che sta qua Bisogna specificare che con Pokemon Go sono facili Perché noi ci siamo sfidati su Minecraft Su Clash Royale Su Clash of Clans YouTube Italia Sono tutte parecchio difficili Questo no Questo invece è davvero semplice Meglio Perché è divertente Comunque Quando le sai Ti infoghi Però Ti viene più felicità a rispondere In ogni caso ragazzi Fateci sapere se volete vedere altri video Perché appunto ci sarebbe La strida su YouTube Italia Che sarebbe divertente Su Minecraft Che sarebbe divertente Su Clash Royale Sarebbe divertentissima E poi ne abbiamo pure un'altra Su un canale ancora più famoso Di tutti questi Che tutti conoscono Aspetta Aspetta La facciamo vedere Dov'è Questo è il più famoso di tutti Questo non lo conoscete ancora Guardate un po' Bellissimo Sì abbiamo davvero fatto il nostro canale L'abbiamo fatto Ovviamente Nessuno ci gioca Penso Perché chi è che lo trova quel canale Per dare la possibilità A voi Di sfidarvi Con le nostre domande Abbiamo già scritto Quante domande 25-30 domande Più o meno Una trentina di domande ci sono Ovviamente se volete Le potete anche proporre Sì potete proporre le domande Oppure sfidarvi con i vostri amici Sul giochino Sul gioco Sul canale Sul tema Come vogliamo chiamarlo Sul canale del nostro canale Sul canale Sul player Su un console Esatto Ok ok Quindi potete sia sfidarvi tra di voi O mandare le sfide anche a noi Perché potrebbe essere divertente Con Slenderale ci abbiamo giocato più di una volta Le nostre domande Oppure proporre delle domande Ovviamente se sono adeguate E se vanno bene Noi le accetteremo Esattamente Ma prima di finire il video Andiamo ovviamente a salutare Gli altri nostri sei eroi del giorno Che per oggi sono Mind Monster Paolo Eleonora Entisar Socket E Fabiana Ciao ragazzi Grazie mille per la condivisione E se è la prima volta che vedete un nostro video Potete considerare l'idea di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao e alla prossima Ciao ciao Ciao